Avete smesso di credere nelle favole? Un giro è tornato. Chi? Pensate che non esista l'isola che non c'è? Buongiorno all'isola che non c'è! Avete rinunciato a imparare a volare? Peter Pan! Mi renderebbe davvero molto felice! Allora non mandate a letto i bambini. Io odio Peter Pan! Questo film è anche per lui. Su Rete 4, Dustin Hoffman, Robin Williams. Book Capitano Uncino di Steven Spielberg. Mercoledì alle 20.45. Il vero cacciucco oggi si pesca con buitoni, direttamente dal freezer. Una zuppa di pesce a regola d'arte. È pronta in pochi minuti, giusto il tempo per metterci i crostini di pane. Cacciucco buitoni, dove la vai a pescare una zuppa così? Buono sto calciucco, eh? Accidenti! Foxy presenta... Sirano, hai il naso neritato? Chi è stato? Ho udito un buato. Sono uno starnuto. Cugino caro, io ho qualcosa per il vostro naso. Il mio naso è un argomento delicato. Questo non lo riterà di certo. I fazzoletti ipoallergenici Foxy contengono cellulose talmente delicate che rendono minimi i rischi di irritazione. Grandioso! Come il tuo naso! Tazzoletti ipoallergenici Foxy. Sfidano le irritazioni. Purificati, figliola, purificati. E a volte, padre, mi prende anche un fastidioso senso di tensione, accompagnato da spasmi. Può essere, figliola, quando fegato e reni rallentano la loro funzione. Ma c'è una soluzione. Soluzione Schum, a base di erbe medicinali, ti può aiutare. È un medicinale leggere attentamente quanto riportato sulla confezione. Soluzione Schum. Femmina in ogni dettaglio. Stanno studiando. Sì, l'inglese. Con dei maestri favolosi. Is happy. Hello, mommy. I love you. Compralo. Prima imparano l'inglese, meglio è. Magic English ha fascicoli e videocassette per imparare l'inglese con i personaggi Disney. E con la Magic Pen scopri quanto sei bravo. Magic English, in edicola solo i 2,50 euro. Prima uscita con dizionario visuale e Magic Pen. De Agostini Junior. adale. Grazie a tutti.